In Italia l'età pensionabile sta diventando sempre più alta. Tendenzialmente andremo in pensione dopo i 70 anni e con un assegno che sarà molto più basso rispetto al nostro ultimo stipendio. Per fortuna c'è un possibile rimedio, la pensione integrativa. Una soluzione alla portata di tutti che rivaluta il capitale nel tempo e offre una seconda rendita mensile o un capitale da utilizzare quando lasceremo il lavoro. Prima si comincia a investire, meglio è, anche con piccole solde. Non solo per il meccanismo della capitalizzazione degli interessi, ma anche perché i versamenti al fondo pensione sono deducibili fino a un massimo di 5.164 euro all'anno e la rendita finale gode di una tassazione agevolata. Grazie.